per realizzare un'opera nft prima di tutto dovete partire da un disegno scaricate un programma da disegno qualsiasi e cominciate a realizzare la vostra opera una volta che l'avete realizzata dovete pubblicarla basta andare su opensea.com vi aprirà questa pagina cliccate crea dopodiché dovete avere un wallet collegato io uso metamask fate apri e vi aprirà la pagina del wallet da qui potete cominciare a svilupparlo ricliccate crea da qui potete caricare la vostra immagine fate foto libreria la caricate qua in alto mettete il titolo dell'opera poco più sotto mettete la descrizione dell'opera qui invece potete mettere altri parametri livelli proprietà anche la rarità dopodiché per pubblicarli in modo gratuito non lasciate ethereum mettete polygon ok così lo svilupperete in modo gratuito adesso fate crea e la vostra opera a tutti gli effetti è stata creata ok adesso dobbiamo venderla in questa schermata potete fare edit e tornare indietro per rivedere qualcosa che magari avete sbagliato in caso contrario se siete convinti di quello che avete fatto basta cliccare su sell in questo campo mettete il prezzo di vendita io ho deciso intorno ai 500 dollari 0.3 ethereum mettete il punto mi raccomando voi adesso direte ma perché la vendi a 500 dollari non ha senso vendere un nft a 500 dollari la foto di questa luna è stata fatta con una reflex che costa 7000 euro e un obiettivo che ne costa 22.000 quindi chi mi ha fatto la fotografia vuole un compenso giustamente e il compenso come sapete se andate a fare un matrimonio e volete un album di matrimonio ve lo fanno pagare abbastanza salato in questo caso questa fotografia ha avuto un prezzo da questo io ho creato la mia opera qui ci sono dati personali basta solo fare una conferma e praticamente avete messo in vendita il vostro articolo se volete rivederlo salvare il link basta cliccare nella parte in alto questo è il link lo salvate aprite una pagina internet lo incollate dentro fate avanti e vedete è stato pubblicato questo è il prezzo ed è possibile comprarlo